Senti, a proposito, ti posso chiedere proprio una battuta, una battuta, sull'ultimo arrivo, come lo consideri? Chiricò? Sì. È un giocatore, è un'ala, giocatore molto forte nell'uno contro uno, crea sempre il supporto di eterno America, è veloce, è bravo tecnicamente, è un giocatore importante per spaccare la partita, come si dice in gergo, e comunque ha dei numeri, ha dei colpi che ne fanno un giocatore, un fantasista, un giocatore importante per quello che è il suo ruolo. Bene, capisco che lo utilizzerai molto. Beh, adesso, andando vediamo come sta la condizione, perché poi... Non parlo di un esordio. Sì, sì, no, certo, certo. Se l'abbiamo preso, andando per la partenza di Panico e Gliossi, ci aveva lasciato un po' su quel ruolo lì, un po' sguarniti, quindi Foschi stava bravissimo a pescare questa opportunità, è un giocatore che ha delle caratteristiche che noi sinceramente non abbiamo, un po' dal monte, però dal monte è un po' più... Lo stesso un'ala molto bravo, comunque averne uno di qua, uno di là, tanta roba. Fa sempre comodo. Sì, sì. Va bene, siete d'accordo, Diriano? Sono d'accordissimo.